ciao a tutti ciao a tutte un nuovo video oggi un video che ho pensato di girare proprio per farvi vedere quali sono stati i miei acquisti infatti proprio ieri non potendone più di queste giornate pre lockdown lockdown e via dicendo pensato di andare a fare un giretto dal Lille Poix ed anche dal DM per cercare di fare scorta soprattutto di multivitaminici e al DM devo dire la verità sono davvero ultra low cost ma andiamo subito a vedere che cosa ho acquistato iniziamo quindi con il DM allora questo è un mitico non posso dire tonico perché non è un tonico ma si tratta di una aspettate che cerco di leggere perché sto indossando le lenti a contatto e con le lenti a contatto è un disastro perché non c'è la correzione della presbiopia è una lozione viso chiaramente adalabo tokyo giappone numero uno nella skin care nella linea di skin care questo prodotto insieme ad un altro che non ho al momento acquistato all'acido ialuronico questo è una lozione viso antietà super idratante un 100 ml con acido ialuronico collagene e retinolo senza profumi ideale anche per le pelli sensibili e dice appunto che basta versarne un pochino qui sul fra le mani emulsionare così e poi passare cosa che ho iniziato a fare ieri sera l'ho fatta questa mattina ma in minore proprio perché essendoci retinolo anche se utilizzo protezione solare 50 più preferisco evitare per le macchie via dicendo quindi è in fase di test questo prodotto che mi sta piacendo molto e poi chiaramente un'altra confezione della maschera anti età sempre di adalabo e questa volta non era in sconto però comunque insomma non costa tanto una maschera in tessuto anti età con super acido ialuronico retinolo e collagene quindi gli stessi diciamo ingredienti di questi prodotti poi poi ho anche acquistato questo kit per sopracciglia che non ho ancora utilizzato della schwarzkopf proprio perché non so se a voi capita a me purtroppo sì ho qualche peletto bianco come sopracciglia e allora essendomi stancato ho detto perché non proviamo un po' a tingerle avevo provato con le ne avendo risultati sicuramente perché sono io che non sono capace assolutamente inesistenti allora ho pensato di prendere questo kit sopracciglia che appunto l'ho preso nel castano scuro perché mi sono detta se prendo un castano rosso poi non vorrei che il peletto magari essendo bianco mi diventa rosso e sembro insomma un clown e quindi insomma un colore scuro poi vedrò perché non vorrei comunque pasticciarmi spero di riuscire ad effettuare un lavoro decente perché vedendo male non vorrei appunto peggiorare la situazione di partenza e poi poi due multivitaminici entrambi di equilibra più energia e più vitamine minerali qui più diciamo complesso di vitamina b vari tipi di vitamina b con anche vitamina c qua invece un insieme di minerali incluso ferro potassio magnesio eccetera poi chiaramente il magnesio che sto prendendo queste capsule diciamo capsule ognuna ognuna è giornaliera perché sono in tutto se non mi sbaglio si 500 più le vitamine quindi è magnesium 500 più vitamina b e chiaramente un tipo di magnesio un tipo scusatemi di compressa che basta per l'intera giornata e solitamente la mattina prendo un multivitaminico ed una capsula di magnesio che ricordatelo soprattutto per noi donne fa molto molto bene poi ho pensato di acquistare questa maschera di balea che ovviamente ancora intatta quindi vi faccio vedere o le first impression oppure semplicemente ciò che acquistate una maschera al collagene idratante in tessuto vi farò sapere parlano di un booster di collagene e poi sono stata tentata da questi due dessert questo è il cioccolato è al riso con cacao e questo invece è un dessert all'avena al gusto vaniglia entrambi sono del marchio the bridge la famiglia organic la scadenza è lunga e di agosto non vanno neanche tenuti in frigo ma io vabbè li stavo conservando in frigo perché freschi sono più buoni e comunque non costavano molto questo è ciò che ho comprato dal dem vediamo adesso invece da lilla qua da lilla qua ho trovato visto che ero entrata praticamente solo quasi per quello questo prodotto per i ricci un modello ricci anticrespo ora sinceramente c'è talmente umidità in questi giorni che non so quanto possono essere poco crespi i miei capelli comunque l'ho utilizzato adorn crema ricci anticrespo ricci senza capricci li ho di nuovo bagnati ho messo questa pasta che è abbastanza densa ho cercato di usarne poca perché i miei capelli sono pochi e molto fini per ora sembra che stia funzionando però aspetto perché chiaramente troppo presto per poter dire poi ho riacquistato il radiant lift correttore di max factor purtroppo ho scoperto che da lilla qua stanno smantellando catrice bene cos ed appunto max factor ci sono rimasta malissimo perché max factor lo trovavo solo da loro ho trovato solo il fair quindi il più chiaro 01 pazienza mi sto adeguando e visto che c'era il 30 per cento di sconto l'ho acquistato e poi ho preso anche questo blush perché era da tempo che cercavo un blush rosa e ho trovato per fortuna tra le ultime diciamo rimasugli scusate ma non riesco ad aprirlo ho trovato questo blush molto carino un blush cotto ora provo farvi vedere il colore ma non so se voi riuscirete perché fra luci e appunto impianti vari non so se si veda il colore sedactive pink questo prodotto questo spray fissante trucco l'ho acquistato sempre dal dam e fa parte di quella linea di makeup che si trova proprio al dam dedicata al makeup ipo allergenico io non so come sia questo tipo di makeup perché non l'ho ancora provato ho preso per ora solo questo ed è prime and fix appunto un di questo ipo allergenic e ho provato per vedere se in confronto a questo fissatore trucco di essence avesse un attimino meno l'effetto sulla faccia secchiata d'acqua perché diciamolo questo di essence potrebbe essere anche buono però quando tu cerchi di vaporizzare altro che vaporizzare ti danno delle secchiate d'acqua cioè questo spray è una secchiata d'acqua in faccia ti lascia pure le macchie questo insomma cioè giusto mezza secchiata d'acqua meno ma siamo lì comunque non so dirvi ancora molto ho provato ma poi di bene cost appunto come vi ho detto c'erano questi sconti ho preso natural e shadow base ma è un rosino io speravo che forse non si potevano aprire quindi praticamente una base per l'ombretto però ragazzi cioè è un beggiolino che non mi serve a molto ecco sinceramente vabbè costava poco per fortuna poi ho preso questa matita marrone perché ho finito quella di corfeo mi sono detta ok che sei allergica però prova anche questa di bene costo ricordo che l'avevo usata per parecchio tempo due stati fa e quindi ho voluto riacquistarla perché non ricordo un po' d'allergia sicuramente me la dava perché dunque mi sarei come dire legata a questa matita per sempre poi ho preso un disastro fatto questa sera ho provato a farla french manicure terribile con queste stencils per la french manicure però vi posso garantire veramente ho fatto un lavoro terribile pazienza ci ho provato poi ho acquistato questo dentifricio di equilibria sbiancante scusatemi all'aloe mi piace mi sta piacendo un buon gusto di menta anche se al momento a livello di gusto quello della z mi piace di più però però è un dentifricio comunque di un certo tipo che sicuramente non può essere paragonato penso io alla z e quindi per il momento mi sta piacendo poi cos'altro acquistato da lilla qua mi sembra di avere terminato con gli acquisti diciamo in campo beauty e non beauty e mi sono dovuto un attimino sfogare mi ero trattenuta ma a quel punto proprio ieri non ne potevo più era un po che non facevo due passi con la fp2 con duemila mani di gel perché entri in un negozio metti il gel poi inizia a toccare le cose allora poi quando esci non vediamo un di l'ora di darti il gel di nuovo, poi calcola che hai toccato soldi o banconote o Bancomat, quindi insomma è un disastro. Fatemi sapere ragazzi e ragazze come state vivendo questi giorni di lockdown, è comunque molto complesso, molto complicato, proprio perché si sa, purtroppo questa situazione del Covid-19 non ci lascia tregua, devo dire che mi auguro il più presto anch'io di poter fare il vaccino, al momento sto aspettando che arrivi il momento, facendo parte appunto della categoria di chi insegna, almeno al momento, quindi lavoro nella scuola pubblica, dovrebbe appunto arrivare la chiamata. Bene, io vi ricordo se volete di iscrivervi, a me fa sempre tanto piacere al mio canale di seguirmi, se anche in questo caso vi può piacere, se ne avete voglia sul mio profilo Instagram, che trovate in sovraimpressione, spero più che altro di avervi fatto un po' di compagnia e fatemi sapere voi, se avete fatto qualche acquisto, se conoscete i prodotti che ho preso io e comunque che cosa state provando, che cosa state sperimentando. Ci vediamo al prossimo video, un grosso abbraccio, ciao! Grazie! Grazie!